io ve l'avevo detto che sarebbe stato un fine 2022 concitato è notizia di pochissimo fa mentre sto registrando è il 10 novembre pomeriggio tardo è notizia di poche ore fa che nel decreto aiuti quater verranno fatte verranno inserite le modifiche che passeranno il super bonus dal 110 per cento al 90 per cento dal primo gennaio 2023 ti andrò a dire ti elencherò in questo video molto brevemente quali saranno le modifiche poi nelle live di domani numero 149 quella di sabato alle 14 andremo eventualmente ad analizzare la bozza del testo e a parlarne in modo più approfondito prima lascia mi piace al video iscriviti al canale se vuoi rimanere sempre aggiornato sulle novità che riguardano i bonus edilizi la normativa catastale e la normativa che gira intorno alla ristrutturazione della tua casa questo per evitare di fare errori se vuoi approfondire la conoscenza di casi pratici per conoscere davvero a fondo come funziona la normativa e come si applica puoi abbonarti al canale o al sito in descrizione trovi i link per informarti su tutto quello che riguarda le varie offerte che riguarda i contenuti speciali e esclusivi per gli abbonati oltre che alle chat esclusive di diretta studio in questi giorni le notizie si susseguono dagli annunci dalle dichiarazioni dalle delle ultime dichiarazioni di non tantissime ore fa del ministro Giorgetti ecco che arriva la bozza del decreto aiuti quater che all'interno contiene anche le modifiche al super bonus te le andrò ad elencare quello di cui ti sto per parlare attenzione però è una bozza è una bozza poi andremo ad analizzare il testo definitivo come verrà effettivamente emanato e pubblicato in gazzetta ufficiale ma il contenuto attualmente consiste in questi quattro punti condomini ed edifici di unica proprietà 2 4 già dal primo gennaio vedranno l'aliquota abbassata dal 110 al 90% quindi niente più scadenza del 110 al 31 dicembre 2023 bensì al 31 dicembre 2022 le unifamiliari che hanno raggiunto il sal 30% a settembre attenzione solo quelle che hanno raggiunto il sal 30% a settembre potranno avere tutte le unifamiliari tutti i soggetti senza vincolo di prima casa o reddito potranno agevolare la spesa al 90% dal primo gennaio fino al 31 marzo tutti mentre quelle destinate a prima casa o meglio ad abitazione principale e sotto un reddito di 15.000 euro che poi vedremo e approfondiremo a proposito della moltiplicazione per 1 cioè aggiungere 1 aggiungere 2 aggiungere 05 c'è anche questo contenuto nella norma per moltiplicare il quoziente famiglia e quindi innalzare questo tetto di reddito comunque chi ha un'abitazione principale unifamiliare e sta sotto un determinato reddito potrà portare al 90% la spesa fino al 31 dicembre 2023 quindi potrà agevolare la spesa col super bonus col nuovo super bonus 90% non è chiaro se solo per coloro che hanno raggiunto il 30% al 30 settembre presumo di no è da approfondire presumo che la scadenza lunga per le prime case e sotto un determinato reddito riguardi tutte le unifamiliari ma potrei anche sbagliarmi l'unica nota positiva di tutto questo è la conferma che per i condomini e gli edifici di unica proprietà dei quali ti ho parlato all'inizio manterranno il 110% solo per quelli per i quali è stata presentata la CILA o per i quali è stato presentato il titolo se si tratta di demolizione e ricostruzione prima dell'entrata in vigore del decreto insomma una bella bomba di inizio novembre che va a confermare quanto era stato già preannunciato dal centro-destra ma va a farlo con un decreto non si attende la manovra di fine anno quindi i passaggi che il ministro Giorgetti stava dicendo di fare in modo tempestivo e poi gradualmente rendere diciamo sostenibile nel lungo periodo tutta la normativa verranno fatti in più fasi la prima fase è questa una fase brusca perché con un decreto verrà immediatamente e probabilmente poi questo decreto verrà assorbito dalla legge di bilancio 2023 vedremo cosa succederà se succederà come per il decreto antifrodi l'anno scorso subito bruscamente boom 110 90% per tutti le uni familiari solo fino al 31 marzo se hanno raggiunto per quelle che hanno raggiunto il sal 30% al 30 settembre mentre per le altre non è chiaro fino al 31 dicembre solo se abitazione principale è sotto un determinato reddito si salva solo chi ha già presentato la CILAS o il permesso di costruire per demolizione e ricostruzione CILAS